Pelle con fulvolo, su un negozio, su un'accheremo un pelle con fulvolo che fanno male, su un'era. Più vanno, non mi ha detto, non vuol torri tenere. Pelle con fulvolo, su un negozio, su un negozio, su un negozio, su un negozio, su un negozio. Pelle con fulvolo, su un negozio, su un negozio. Fulvolo non siun è il negozio. No, non. Si è piaciuto il nostro lavoro, non ci sono. Qui si è piaciuto il nostro lavoro? No, non ci sono tutti. Non ci sono un po' di più, non ci sono un po' di più, non ci sono un po' di più. ma già appa vata kitab kinnagga laggi arredi da spi sassbira algino boro mone manastham thai manasro da kitab mendele gira oi ye jun kitab chaiye mani bera bogaian ma chanis itiyastersko chaiye mani bera 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 bogaian ma chanis ma lei prasweli bani ho No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.